Crostata di mele al burro salato. Una ricetta semplice, come la crostata di mele al burro salato è l'ideale per concludere con dolcezza le cene invernali, in particolare a gennaio. Una crostata dal gusto deciso, grazie all'aggiunta del burro salato, per una scelta di gusto davvero ricca e golosa. La preparazione è semplice e poco impegnativa. Ecco gli ingredienti e i passaggi necessari per realizzarla. Farina 0, burro salato, zucchero, uova, mele, limone, spezie a piacere, cannella, chiodi di garofano, noce moscata. In una ciotola miscelare farina, burro salato, zucchero e un uovo. Impastare fino ad ottenere un composto omogeneo. Stendere l'impasto ottenuto su un piano da lavoro leggermente infarinato. Versare il composto sulla base di una tortiera, precedentemente ricoperta di carta forno. Lavare e mondare le mele, tagliarle a fettine sottili e disporle sulla base di pasta. Spruzzare le mele con il succo di limone. Preparare la copertura mescolando un uovo, un cucchiaio di zucchero e le spezie a piacere. Versare la copertura sulla torta di mele. Cuocerla a 180 gradi centigradi per circa 40 minuti. Lasciar raffreddare prima di servire.